Conquista un buon pareggio la Triestina impegnata ieri pomeriggio nel difficile campo del Bassano. La squadra di Sannino esce con un punto dal match contro i terzi in classifica dopo aver disputato una gara generosa. L'avvio è subito movimentato con i padroni di casa che si gettano in avanti arrivando in 18 secondi al tiro nello specchio. Il portiere dell'Unione Boccanera non ha problemi a bloccare. Passano pochi secondi e stavolta è la Triestina ad arrivare in porta seppur con un tentativo flebile che si spegne tra le mani di grandi. Ancora Bassano pericoloso quando sono 5 minuti sul cronometro con Boccanera che si lancia bloccando sul nascere ogni rischio per la sua porta. A 8 minuti e 80 metri di distanza arriva la giocata che cambia l'equilibrio. Arma pescato da lontano da Porcari supera due difensori giocando tra fisico e tecnica calciando poi di sinistro fulminando il portiere avversario. Unione in gasso e poco dopo ancora arma crea scompiglio ma stavolta il suo piede non punge come precedenza. Il Bassano si riprende e torna a farsi vedere in area avversaria favorito da un errato disimpegno di Boccanera che prima consegna il pallone agli avversari poi si riscatta alla grande vincendo l'uno contro uno con Fabro lanciato a rete. Sono le prove generali per il pareggio che arriva al 22esimo. Andreoni sfonda sulla corsia destra e mette un gran rasoterra all'indietro sul quale Fabro si fa trovare pronto all'altezza del dischetto per il destro vincente. L'Unione prova a digerire la rimonta con un paio di chance costruite in maniera pregevole concluse con poca potenza. Alla mezz'ora mischia furibonda in area giuliana con gli ospiti che bloccano ogni fondo prima col portiere poi col difensore. Nella ripresa i ritmi restano alti sia Bassano che Triestina scagliano in avanti gli attaccanti che con azioni veloci arrivano in area ma altrettanto veloci sono le reazioni delle rispettive difese. Sia in movimento che da calcio da fermo si assiste a una partita ricca di emozioni dove il pallone sembra indiavolato a sgusciare da un piede all'altro con in mezzo la complicità delle uscite dei portieri. In questa seconda fase la Triestina gioca bene, il Bassano crea qualcosina in più in termini di pericoli ma il risultato non cambia. Uno a uno tra gli applausi del pubblico. La Triestina continua a muovere la classifica e ora si concentrerà alla seconda trasferta di fila contro il Vicenza. Con la Triestina